Don Antonio Scicchitano della parrocchia Sant'Anna di Catanzaro Lido, responsabile dei giovani del carcere minorile di Catanzaro. Il cappellano per il giro di metà giusto. È un bel momento questo del primo caposuvero perché ricorda a tutti quanti noi quanto è importante la legalità, quanto è importante essere liberi i cittadini e se si vive legalmente si vive meglio, sia umanamente che anche cristianemente posso dirlo tranquillamente. Quindi grazie a questo premio che ci ricorda quanto è bello vivere nella legalità. Grazie. 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 Grazie.